Nella sesta giornata di ritorno del campionato di prima divisione Lega Pro in programma questa domenica 9 febbraio con calcio d'inizio alle ore 14.30, un Suitero in serie utile da otto partite per effetto di cinque vittorie e tre pareggi, ospita il Drusel Venezia in un delicato quanto importante scontro diretto in chiave playoff, che mette di fronte due squadre appaiate in sesta posizione, a soli tre punti dal terzo posto. Il Suitero la è reduce dal prezioso pareggio a reti inviolate sul campo dell'Umezzane, squadra che era reduce da due vittorie consecutive, l'ultima delle quali è ottenuta in casa della capolista Virtus Entella. Per il Suitero come già detto, si è trattato dell'ottavo risultato utile consecutivo. Un filotto iniziato l'8 dicembre scorso col pareggio senza gol contro la vice capolista Pro Vercelli e proseguito con il poker di vittorie contro San Marino, Propate, Arreggiana e Albinoleffe. A seguire il pareggio a reti inviolate a Pavia, la Roboante vittoria a Casalinga contro il Como superato per 4-3 e il già citato 0-0 a Lumezzane. 8 match nei quali il team di Rastelli ha incamerato 18 punti sui 24 a disposizione, subendo appena 4 gole e segnandone 13, miglior attacco del campionato con 33 reti complessive. Da rimarcare anche la ritrovata solidità difensiva, con la porta bianco-rossa che è rimasta inviolata in 6 delle ultime 8 partite. Aldruso il Suitero l'ha conquistato ben 21 dei 30 punti che detiene in classifica, per effetto delle 6 vittorie dei quattro pareggi mentre l'unica sconfitta è arrivata beffardamente contro la capolista Virtus Entella. Contro il Venezia mister Rastelli privo del solo Cappelletti, tornerà a disporre di Pederzoli e dell'Agnello che hanno scontato il turno di squalifica e potrà arruolare anche i neo acquisti Facchintraore e Cocuzza. La difesa dovrebbe essere confermata in blocco, mentre a centrocampo Pederzoli tornerà in cabina di regia con dell'Agnello terminale ultimo del tridente d'attacco completato da Minesso e Corazza. Nella gara d'andata disputatosi lo scorso 13 ottobre a Porto Gruaro, Biancorossi e Lagunari impattarono per 1-1, con botta e risposta nel primo tempo per effetto dell'iniziale vantaggio del suitero alla firma di Caleb Ecuban e del pareggio su calcio di rigore di Shasha Cori. Nelle ultime 3 partite il Venezia ha conquistato un solo punto, frutto dell'amaro pareggio casalingo di domenica scorsa contro il fanalino di Coda Pavia. Precedentemente i Lagunari erano stati sconfitti da Vicenza e Virtus Entella. In trasferta il Venezia non ha mai parigiato e raccolto 12 dei 30 punti che detiene in classifica, per effetto di uno score di 4 vittorie e 6 sconfitte. Il capo cannoniere della squadra Ligure è rinforzatasi a gennaio con gli innesti di Carculo, Kirill o Vepisano, è l'ex biancorosso Riccardo Boccalon, autore sin qui di 10 gol, mentre nella sua parentesi in maglia biancorossa era andato a segno una volta nelle 6 partite disputate nel girone d'andata dello scorso campionato. Insomma un avversario temibile con la giunta dello spauracchio dell'ex, ma il suitero degli ultimi due mesi è squadra che non deve temere nessuno. Grazie a tutti.